A un mese dalle prime riaperture del 4 maggio dopo il lungo confinamento per contenere l'epidemia di Covid-19, continuano ad essere positivi i dati sul contagio in Toscana diffusi dall'ARS, l'Agenzia regionale di sanità. Nell'ultima settimana sono stati registrati 47 nuovi casi positivi, il 90% dei quali asintomatico, a fronte di una media di 3.000 tamponi al giorno. Per quanto riguarda i test sierologici, in Toscana, fra operatori sanitari e popolazione in generale, ne sono stati effettuati 170.000, più di quanti ne prevede l'indagine sierologica avviata dal governo a livello nazionale. I guariti rappresentano l'80% delle oltre 10.000 persone che hanno contratto il Covid-19 in Toscana. Con la ripresa del 3 giugno della mobilità fra le regioni e l'apertura delle frontiere ai cittadini dei paesi dell'area Schengen senza quarantena, resta ovviamente alta l'attenzione sull'evoluzione del contagio. In Toscana, però, la situazione secondo Lars è confortante. I ricoverati nei reparti Covid degli ospedali sono in calo da 58 giorni consecutivi, a parte l'unica eccezione del 25 maggio. I pazienti Covid sono seguiti molto di più sul territorio, indirizzando nelle strutture sanitarie soltanto i casi gravi. Anche i ricoveri in terapia intensiva stanno comunque diminuendo da 60 giorni consecutivi e la quota di malati gravi si assesta sullo 0,2% del totale. Per quanto riguarda i decessi, in Toscana sono 1.053 le persone la cui caso di morte è direttamente riconducibile al Covid. Il numero giornaliero di vittime sta progressivamente diminuendo. Alla fine di marzo la media era 25 al giorno, nell'ultima settimana è di 4. Ed è ormai chiaro che l'età e la presenza di altre patologie pregresse, oltre alla mancanza di una terapia specifica, sono stati determinanti per l'esito fatale.